Sono passati 75 anni dalla Fondazione della Servio Firmino, che il caso ha voluto essere anche lo stesso anno della mia data di nascita. Ringrazio tutti voi di cuore per essere presenti a questo evento che è così importante per la nostra azienda. Il mondo, come è ovvio, è molto cambiato da allora. La famiglia Savio si è allargata, ha approfondito la passione per il proprio lavoro. Quello che sicuramente non è cambiato nella nostra azienda e nella nostra famiglia è l'amore per l'arte e la cultura. Per questo è veramente un motivo di orgoglio essere qui ospiti a celebrare il 75esimo anniversario, presentando il piccolissimo contributo che l'azienda e la famiglia Savio hanno voluto dare alla conservazione di un pezzo di alto artigianato, l'Inneo, realizzato nel XVI secolo a Firenze, città che ha accolto mio padre Firmino e dove l'azienda si è sviluppata e ora è presente nuovamente restaurato nella collezione del Museo Ermitaceo di San Pietro un pezzo d'arte realizzato in una materia a noi molto molto cara che è allo stesso tempo umile e preziosa e legno. La famiglia è una grande, una grande, una famiglia di Grazie a tutti. Grazie a tutti.